Ok, vediamo se ho capito. Se sbagli il quarto down, allora la palla passa all'altra squadra? Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Su, forza. Forza. Fermo, Callus. Che razza di nome è Callus, poi? Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tommy. Callus. Stai indietro. Andiamo. Ok, nessuno di questi edifici sembra un specchio. Andiamo nella zona centrale. Da lì vedremo il resto del campus. Forza. 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 Resto con Callus. Oddio, quel nome. Forza. Grazie. Qui c'era un posto di guardia. È un buon segno. 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 Dovrei reggere. Tirati indietro. Quindi in questi posti la gente ci viveva e ci studiava? Anche se erano adulti? Sì, studiavano. Torno subito. Torno subito. Spostati. Spostati. Quanti pezzi. Quanti pezzi. è un buon segno. 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 E tu? Cosa avresti voluto fare? Ehm... Beh, quando ero bambino volevo fare il... il cantante. No, smettila. Sono serio. Canta qualcosa. Ah, no. Avanti, non rido. Non ci credo. Joy, per favore. Forza. 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 Wow. Quelle sono scimmie? Sì, un sacco di scimmie. Mangiamo. Forza. 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 luci vedo bene è il primo segno delle luci ci vedo Grazie a tutti. 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 a tutti.